Una vita il segreto, oggi puntate lunghissime, 26 marzo 2018, la morte di Fabrizio Frizzi, che come sapete avvenuta sta, ha fatto saltare un po', tutta la normale programmazione di Rai e Mediaset. In particolare, Canale 5 ha eliminato per oggi molti programmi di intrattenimento sostituendoli con le telenoveli più amate. Dopo Beautiful, dunque, vedremo una lunga puntata di una vita, assisteremo infatti non solo alla seconda parte dell'episodio 429 ma anche all'intero episodio 430, arrivando così sino alle 16 circa. Dopo il daytime dell'isola, dei famosi, poi, ci sarà la consueta puntata del Segreto e successivamente Pomeriggio 5, ma la telenovela spagnola sarà in onda anche alle 18,50 in sostituzione di avanti un altro. Resta anche confermata la prima serata con Puente Viejo. Ecco dunque le principali variazioni di Mediaset per la giornata di oggi, stando ad un recentissimo comunicato stampa, su Canale 5 e rimandate le puntate di Uomini e Donne, Amici, e, avanti un altro, su Rete 4 ha rinviato l'appuntamento in seconda serata con, Ieri, Oggi Italiani, condotto da Rita dalla Chiesa, su Mediaset Extra, dalle ore 18.00, speciale, dedicato a Fabrizio Frizzi, con lo show Come e Sorelle, in onda su Canale 5 nel 2003, e, a seguire, le più belle immagini del presentatore scomparso alla serata dei, Telegatti, del 1992. Anticipazioni puntate italiane news e interviste palinsesti 2018-03-26 Vittorio Rossani. a